ed eccoci qua benvenuti a una nuova puntata di tutti amici anche oggi andiamo avanti cominciamo continuiamo a parlare di eventi di feste organizzazioni poi insomma parliamo di cose belle come sempre e lo facciamo proprio con diego castioni presidente trucci rock fest benvenuto ciao diego grazie mille ciao buongiorno a tutti ciao come stai bene bene ti ringrazio molto bene alla grande ringrazio a te intanto per aver accettato il nostro invito finalmente si torna a fare un po' di festa dopo quanti anni? dopo due anni di fermo siamo ritornati alla grande quindi siamo confidenti di una buona riuscita di questo evento finalmente finalmente c'era tanta voglia insomma adesso tante restrizioni sono andate a svanire per fortuna ci sono ancora tante regoline da seguire però ci sono molte regole ancora da seguire staremo ben attenti l'evento è organizzato conforme tutte le direttive e le normative vigenti quindi insomma siamo ben consapevoli che le cose si fanno fatte bene e riuscirà anche il divertimento questo è importante Diego mi piace perché ti vedo carico dello spirito giusto che serve però sono curioso andiamo un po' a monte come nasce trucci rock fest? allora diciamo questo evento nasce allora nasce una decina di anni fa più o meno se non contiamo i due anni appunto che di cui dicevamo prima dello stop forzato certo è nato per volontà di un gruppo di ragazzi di amici di Lusso Buono sì l'evento le prime manifestazioni che avevamo fatto in maniera molto molto ridotta chiaramente certo e le avevamo fatte e con l'intento di ricordare un nostro nostro amico scomparso prematuramente certo e quindi avevamo detto quale quale bella idea se non fare appunto una una festa in suo onore da lì da lì diciamo che la cosa è andata un pochino in escalation quindi anno dopo anno piano piano pezzetto dopo pezzetto ci siamo un attimino ingranditi scusa qua ti interrompo perché dice un attimino ingranditi vi faccio vedere una foto raga scusate solo il palco così ecco l'umiltà di Diego in questo momento no ci teniamo comunque ad avere sempre diciamo anche un palco che permetta delle performance carine mettiamola così coinvolgenti e quindi come ti dicevo insomma abbiamo cominciato una decina di anni fa l'evento ha preso piede vediamo che c'è un buon seguito quest'anno diciamo per noi è il decimo anno anche se non se non fisicamente ecco nel senso che per noi è un anniversario importante sì e l'evento l'evento si svolgerà su tre giorni siamo il 10 l'11 e il 12 giugno certo un bellissimo posto lo faremo presso i campi sportivi di dorso buono certo e si svolgerà tendenzialmente con tre gruppi ogni sera e scusa la domenica che ne saranno quattro addirittura ecco grazie alla regia che ci passa le immagini così le vediamo anche insieme sì tre giorni proprio non stop sì esattamente esattamente e la scaletta prevede l'inizio il venerdì sera con i Black Mama a seguito i Bullfrog e poi da X Factor del 2009 quest'anno abbiamo pensato di chiamare i Buster Sons of Dionysm anche in occasione dell'uscita del loro ultimo album bravi bravi quindi diciamo cominciamo bene il 10 giugno è certo il sabato invece abbiamo sempre con l'inizio intorno alle 18-18.30 indicativamente abbiamo i 3D Peek seguiti poi dai Lord Byron e le sue amiche ruspe per finire i Supernova questa cover band, questa tribute band scusate degli Oasis direttamente da Torino sì fortissimi loro grandi ragazzi nonché amici quindi grandissima serata anche questa bello anche perché poi loro li abbiamo visti e sentiti parecchie volte parliamo di nomi comunque belli, interessanti sì 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 coinvolgenti molto parecchio sì 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 assolutamente assolutamente mentre per l'ultima serata abbiamo deciso di dare un pochino di spazio anche alla gioventù del paese mettiamola così quindi aprono la serata il pomeriggio i Purple Bumps bravi i Purple Bumps sì assolutamente e poi ne parleremo sì sì seguiti poi dai Not Found e poi Judy e Quani questo questo duo e infine i Patrick secondo la grandissima musica Irish e molto coinvolgente molto bella evviva davvero anche perché intanto bravissimi davvero e poi bello curioso anche perché guardavo i Purple Bumps che conosciamo molto bene poi tra un po' ne parleremo Judy e Quani che sono stati ospiti qua nei nostri studi e anche i Patrick quindi sì 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 una bella scaletta dai una bella scaletta no bravi oltretutto tre giorni ma non tre gruppi cioè parliamo veramente di... sì allora quest'anno la formula è stata completamente rivoluzionata nel senso che essendo tutti quanti noi dell'organizzazione appassionati di musica ci piaceva l'idea di fare un tentativo e di provare a fare un mini festival, provare ad investire una cosa del genere quindi gli altri anni facevamo solamente due serate con due gruppi, un gruppo per serata, quest'anno abbiamo voluto provare a fare qualcosa di diverso, qualcosa di sicuramente più impegnativo però sono sicuro che insomma avrà un ottimo riscontro beh intanto io amici a casa vi invito a lasciare il vostro segui sulla pagina Instagram del Trucci Rockfest mi raccomando ma anche ovviamente spiate andate a cercare spiate ma soprattutto fate le vostre storie fate le vostre storie in formato selfie come vi pare piace con scritto con dove voi fate il vostro invito al Trucci ovviamente ditelo anche io sarò al Trucci e poi taggate la pagina e poi ovviamente anche la parte Facebook dove potete trovare tutto quanto. se posso aggiungere una cosa velocemente ci tengo a sottolineare che l'evento è completamente per beneficenza nel senso che tutto quello che verrà raccolto verrà devoluto come ogni anno e come le edizioni passate in beneficenza non esiste un'associazione unica che ne beneficerà nel senso che ci teniamo ogni anno a cambiare un pochino i destinatari di questi soldi di quello che riusciremo a guadagnare quindi è importante che si sappia perché insomma siamo qui siamo qui per questo ecco siamo qui per questo ecco sottolineiamo questa cosa che insomma festa è la cosa bella l'unione dello stare insieme di divertirsi con la musica per un motivo in particolar modo quello di poter aiutare come fate da dieci anni ad oggi anzi di più perché due sono stati di stop ma si sono stati un pochino fermi esatto esatto farei una parentesi prima di chiudere importantissima allora ho visto un nome tutti i nomi interessanti però un nome che mi sta particolarmente a cuore i purple buns questi giovani ragazzi che ti stanno veramente dando da fare raccontami qualcosa lasciami te ti lascio la parola volevo dire prego assolutamente allora diciamo che l'idea comunque essendo nata come una festa l'idea all'interno del paese quest'anno era chiaramente anche quella di dare un pochino di visibilità anche a gruppi della zona quindi abbiamo pensato che i purple buns forse esattamente quello che ci serviva per poter aiutare anche questi giovani talenti a crescere e dare loro un'opportunità di suonare anche su un palco importante carino e su un palco importante di divertirsi anche loro insieme a noi quindi assolutamente siamo felicissimi di supportarli e di averli con noi in questo in questo evento domenica domenica 12 noi vi ringraziamo ringraziamo te e tutto il team per avere questi ragazzi fantastici anche perché sappiamo che parleranno del loro nuovo singolo insomma ci sono cose davvero importanti curiosi quali vediamo anche in studio che poi tra l'altro a breve tra in questi giorni saranno ospiti della nostra Giorgia Preti dove proprio ci racconteranno la loro esperienza anche perché i purple buns hanno vinto l'anno scorso proprio smart music il concorso di radio adige tv dove sono stati ovviamente premiati e presto vedremo anche il loro vedremo proprio il loro singolo il loro nuovo singolo in rotazione video sui nostri canali assolutamente siamo felici che voi del territorio avete un occhio di riguardo verso i giovani giovanissimi grazie ci teniamo con noi ci teniamo con noi deve essere così assolutamente bravi si vede si vede davvero tanto inoltre io ne approfitto perché ci tengo vuole far vedere la pagina dei purple buns seguiteli perché veramente ne hanno da raccontarvene un sacco questa insomma novità curiosità si parla di musica nuova musica ragazzi giovani che ce la stanno mettendo tutta e ancora sottolineo bravi voi e chi crede nei giovani che hanno voglia di fare le cose seria assolutamente si bravi io non mi resta che ringraziarti ancora nuovamente grazie a voi colgo l'occasione anche per ringraziare tutti quelli che chiaramente ci hanno aiutato e supportato tutti gli sponsor tutte le organizzazioni che ci hanno dato una mano lo dicevamo proprio qua sì assolutamente assolutamente senza di loro non sarebbe chiaramente stato possibile un evento del genere quindi dei doverosi ringraziamenti a tutti a tutti quanti grazie grazie davvero lascio ancora gli ultimi 10 secondi a te con l'invito agli amici a casa assolutamente vi aspettiamo il 10 11 12 però sui campi sportivi di idrosu buono venite a divertirvi ci saranno degli ottimi delle ottime birre ottimi stand gastronomici vi divertite bella musica bella gente vi aspettiamo e allora evviva prossimo giro noi da voi e quindi mi raccomando raga se siete amanti del divertimento della buona musica e dello stare insieme mangiando bevendo ascoltando buona musica ci vediamo altrucci grazie mille grazie grazie a te grazie mille ciao ciao e allora grazie ragazzi per averci seguito ci vediamo presto e sapete dove come quando e perché e allora alla prossima ciao